La mobilità sostenibile è spiegata ai bambini attraverso i laboratori, percorso arcobaleno e apreti cielo, perché sin da piccoli è importante conoscere l'ambiente in cui viviamo e capire le conseguenze delle azioni che mettiamo in campo. L'appuntamento gratuito è per sabato pomeriggio a Como in via Sant'Abbondio 4, nell'ambito di Eco Mobility, la giornata dedicata appunto alla mobilità sostenibile, un'iniziativa di espansione tv LifeGate e Corriere di Como. Al mattino infatti si alterneranno esperienze e conoscenze, teorie e buone pratiche con numerosi relatori, invece al pomeriggio si passerà alla pratica, declinata in due possibilità. Per gli adulti sono previsti test drive di vetture elettriche o ibride, mentre i più piccoli, guidati da due educatori, hanno a disposizione dalle 14.30 alle 17.30 i laboratori creativi rivolti ai bambini dai 4 anni in su. Se la luce solare incontra la pioggia all'orizzonte nasce un arco di colori, l'arcobaleno, la mezzaluna colorata che cattura l'attenzione di chi lo guarda, indipendentemente dall'età, ma basta pochissimo perché quell'effetto cambi, anche l'inquinamento può modificarlo. Il laboratorio in programma sabato prevede che i bambini preparino un proprio quadro arcobaleno dipingendo con gli acquerelli e disseminando lungo il percorso un messaggio di sostenibilità ambientale. Con l'immaginazione e la fantasia potranno nascere dipinti originali e sorprendenti. Per l'attività ci saranno a disposizione cartoni, quadrati di carta, lettere colorate, colli e acquerelli. Contemporaneamente si svolgerà anche apriti cielo, carta e colori per giocare con la tecnica dei libri pop-up e per creare un messaggio speciale per preservare la bellezza dell'ambiente in cui viviamo. L'appuntamento con Ecomobility, lo ricordiamo, è fissato per sabato 15 giugno al mattino con gli ospiti, al pomeriggio con i test drive e i laboratori. L'evento è gratuito e aperto a tutti e gradita una conferma